A Wall Street negli ultimi mesi hanno fatto scalpore le performance del colosso dei microchip Nvidia. Il titolo ha fatto registrare il più 85% da gennaio 2023 con un più 20% solamente nelle ultime tre settimane dopo la buona trimestrale rilasciata nel mese di febbraio. L'azienda ha raggiunto il quinto posto tra le aziende a più alta capitalizzazione americane scavalcando nella lista Tesla e Berkshire Hathaway di Warren Buffett, piazzandosi dietro a dei colossi come Apple, Google e Amazon. In questo video cercheremo di capire se, nonostante questi grandi rialzi, è il momento di investire in Nvidia oppure no. Nvidia è stata fondata nel 1993 a Santa Clara in California, da tre ingegneri usciti da AMD e IBM. Jensen Wang, che nonostante siano passati 30 anni è ancora l'amministratore delegato, Chris Malakowski e Curtis Priam. I tre ingegneri capirono subito che il settore su cui puntare negli anni 90 erano le schede grafiche, capaci di sostenere la tecnologia per il 3D. In quegli anni infatti nascevano i primi film e i primi videogiochi che facevano un uso massiccio di tecnologia per generare dei modelli 3D. Proprio nel 1993 il film Jurassic Park fece da apripista, facendo capire l'importanza dell'accelerazione grafica per il futuro. Per chi non lo sapesse, una scheda grafica è un componente interno del PC che dà maggiore potenza alla scheda madre su richiesta. Per esempio quando ci sono da caricare tanti dati nello stesso momento, come nel caso di un videogame. Grazie ad un investimento iniziale di 20 milioni di dollari da parte del fondo Sequoia Capital, l'azienda riuscì in soli due anni a produrre il primo prototipo della sua scheda grafica, capace di gestire sia il 2D che il 3D e venne scelta da Siga per la sua console Saturn. Fu proprio l'industria videoludica che esplose appunto negli anni 90 ad essere la fortuna di NVIDIA, in quanto la maggior richiesta di schede grafiche arrivava proprio da quel settore. Una delle prime mosse per efficientare l'azienda durante i primi anni di crescita la propose proprio il CEO Jensen Wang, che spinse affinché NVIDIA rimanesse solamente un'azienda di design grandi componenti. La costosa produzione dei suoi hardware, infatti, fu affidata alla Taiwan Semiconductor Company, che a fine anni 90 produceva i chip NVIDIA su licenza. NVIDIA today wouldn't be here, and nor the other thousand fabulous semiconductor companies wouldn't be here if not for the pioneering work that TSMC did. Una delle prime partnership importanti fu siglata nell'anno 2000. Bill Gates, infatti, in quegli anni era pronto con Microsoft ad entrare nel mondo dei videogiochi grazie alla console Xbox. E si rivolse proprio ad NVIDIA per l'implementazione delle schede grafiche da implementare nella console. L'azienda poi continuò a crescere per tutti gli anni 2000 e nel 2006 lanciò una vera e propria rivoluzione computazionale. Mentre i suoi competitor come Intel e AMD si concentrarono sulla produzione di chip singoli, NVIDIA rivoluzionò l'approccio al problema introducendo la computazione parallela. Nel 2006, infatti, lanciò un modello di programmazione chiamato CUDA che essenzialmente cambiò il modo con cui le GPU NVIDIA lavoravano da calcolo seriale a calcolo parallelo. Il calcolo parallelo consiste nel prendere un problema e attaccarlo con molte macchine molto piccole nello stesso momento, a differenza del calcolo seriale in cui un singolo set di dati viene analizzata in maniera aggregata da un singolo circuito, generalmente molto grande. In parole povere è come avere un singolo soldato molto grande o un esercito formato da tanti piccoli soldati che possono essere spostati all'occorrenza per attaccare il nemico su più fronti. Questo approccio si rivelerà fondamentale per NVIDIA e sarà poi alla base dell'infrastruttura che oggi sostiene l'intelligenza artificiale. La storia di NVIDIA però non è stata tutta rosa e fiori. Nel 2009, infatti, l'azienda provò a sfondare nel settore dei chip per telefoni, provando ad introdurre Tegra, appunto un chip per telefoni, che però non sfondò mai. Questa volta la partnership con Microsoft non fu profittevole. Tegra, infatti, era il microchip utilizzato dagli smartphone di Microsoft, che però, come sappiamo, non ebbero molto successo. Altri problemi poi arrivarono nel 2020, quando l'acquisizione da oltre 40 miliardi di dollari di ARM, un'azienda di semiconduttori inglese che vende su licenza l'architettura per alcuni microchip di produzione interna di Apple e dei microchip utilizzati per il Kindle di Amazon, fu bloccata dall'autorità dell'antitrust. Un altro momento chiave per NVIDIA fu nel 2012, quando le GPU di NVIDIA furono montate su AlexNet, una rete neurale che stupì letteralmente il mondo durante un contest di riconoscimento visivo. Quello, tra le varie cose, è considerato il momento zero dell'intelligenza artificiale. Grazie ad AlexNet si capì che il processo, in parallelo, andava bene sia per la grafica sia per il deep learning, quel processo con cui i computer imparano da loro stessi, attraverso milioni di prove e simulazioni, invece che affidandosi al codice di un programmatore. L'azienda ebbe la grande intuizione ed il coraggio di seguire e di investire su questo trend, pur sapendo di non poterne trarre un guadagno nel breve termine. Tra parentesi, spoiler, lo vediamo tra poco, ma adesso ci stanno guadagnando. Vedremo tra poco come. Ad oggi la tecnologia del deep learning di NVIDIA viene già utilizzata in molti settori, come per esempio nel campo sanitario. Grazie ad NVIDIA, per esempio, la sequenziazione del DNA è diventata estremamente più veloce e oggi richiede solamente alcune ore rispetto alle settimane che servivano in passato per essere completata. Ma non solo, la potenza computazionale fornita da NVIDIA è anche alla base di nuove forme d'arte, come per esempio le opere di Raffi Canodol, esposte anche al MoMA di New York che ricoprono letteralmente intere pareti. Un altro campo nel quale viene utilizzata la potenza di calcolo delle schede NVIDIA è il mining di criptovalute, fenomeno che ha causato un incremento di domanda che ha portato alla crisi dei microchip nel 2021, anno in cui i prezzi del bitcoin sono schizzati oltre i 60 mila dollari. Questa carenza si è poi trasformata in una maggiore produzione da parte delle aziende di semiconduttori nel 2022 e quando la domanda è calata il mercato si è saturato, con le principali aziende di semiconduttori, tra cui NVIDIA, che hanno registrato un calo nel fatturato. Nonostante questa flessione nei ricavi, NVIDIA è riuscita a battere le stime degli analisti nell'ultima trimestrale di fine febbraio grazie all'esplosione dell'intelligenza artificiale, settore nel quale l'azienda si è ben posizionata come abbiamo visto prima. Sia Microsoft che Google utilizzano migliaia di schede a 100 di NVIDIA per allenare i loro tool di intelligenza artificiale, chat GPT e BARD. Pensate che una scheda grafica di questo tipo ha al suo interno oltre 6.900 CUDA Core, le micro unità che scompongono in set piccolissimi le grandi molli di dati come abbiamo visto prima. È inutile sottolineare che il costo di questi processori è altissimo. Il prezzo di una singola card a 100 è variabile, ma di solito queste schede vengono vendute in set di 8 per un costo totale di 200.000 dollari a set. Pensate che se Google volesse trasferire su queste schede l'intera mole di ricerca che viene fatta oggi sul suo motore di ricerca, avrebbe bisogno di spendere 80 miliardi in schede. Numeri davvero impressionanti che hanno spinto NVIDIA a creare una nuova linea di business. Per le aziende più piccole, infatti, NVIDIA sta progettando un abbonamento per affittare questa potenza di calcolo in cloud, così che l'azienda non debba sobbarcarsi il costo dell'acquisto di queste sofisticate unità. Ma c'è dell'altro. I chip di NVIDIA non sono solamente utilizzati nel mondo dell'intelligenza artificiale da chat GPT. Sono tantissime, infatti, le aziende che utilizzano questi microchip nelle loro automazioni. Parliamo di nomi altisonanti come per esempio Amazon. In questi robot, i chip principali sono proprio degli NVIDIA Tegra. Il chip che abbiamo visto in precedenza era nato per gli smartphone di Microsoft. Tegra è stato utilizzato anche da Tesla fino al 2016, anno in cui il chip è stato sostituito con uno di produzione propria. NVIDIA ovviamente attiva anche nel settore automobilistico e fornisce i chip sui quali girano programmi di guida assistita, cruise control, frenata di emergenza per aziende come Mercedes, Audi e BMW. Passando alla geopolitica, nel corso del 2022 l'azienda è riuscita ad evitare le problematiche che sono sorte tra Cina e Stati Uniti. Cina e Taiwan sono due mercati importantissimi per NVIDIA. Pensate che nel 2022 hanno contato rispettivamente per il 25 per il 30 per cento dei ricavi e nel 2022 quando gli Stati Uniti hanno fortemente limitato la possibilità di esportare microchip verso la Cina, lo stesso Jensen Wang ha dichiarato che i suoi dipendenti hanno lavorato notte e giorno per trovare degli escamotage per fare in modo che i processori aggirassero diciamo le specifiche che avrebbero appunto bloccato l'esportazione. Quindi ricapitolando, forte posizionamento sul settore dell'intelligenza artificiale sia nel settore chatbot sia in altri settori come automobili e sanità. Grande diversificazione geografica delle revenues come vediamo dalla rendicontazione dell'azienda su Bloomberg, oltre ad una grande capacità di reinventarsi come abbiamo visto con i microprocessori Tegra e grandi abilità politiche di aggirare diciamo i blocchi imposti dallo Stato. Non è un caso dunque visto il grande utilizzo che praticamente tutte le industrie del mondo fanno di microchip oggi che l'azienda sia arrivata al quinto posto tra le aziende più grandi negli Stati Uniti. Ma dopo il più 85 per cento in borsa negli ultimi tre mesi c'è spazio ancora per comprare queste azioni? Saliranno ancora? Ne abbiamo parlato al webinar del lunedì di ieri. Ecco un estratto di quello che abbiamo detto studiando i grafici del titolo Nvidia. La cosa interessantissima secondo me è che all'interno del testa e spalle che ci hai fatto vedere tu che è questo in verità ce n'è anche un altro molto molto più grosso e molto più interessante che potenzialmente è questo quindi a mio avviso quello che succederà adesso arrivati su questi massimi molto importanti molto probabilmente ci sarà appunto un ritracciamento che ho disegnato in questo modo e questo ritracciamento che potrebbe tranquillamente appunto passare da questo livello eccolo qua che non è nient'altro che il livello che tocca questo massimo passa per questo minimo da questi prezzi con buone probabilità appunto ci sarà un un andamento verso il massimo quindi interessantissima la situazione su Nvidia tra l'altro la potete trovare anche su Kimura Trading tenete presente che qualora perdesse un 20 25 per cento dai livelli attuali a mio avviso sarebbe uno dei best buy assolutamente del momento proprio perché secondo me nei prossimi anni Nvidia come tutte le aziende che fanno semiconduttori si troveranno davvero di fronte a una quantità di lavoro che verranno travolte dagli ordini e di conseguenza ci troveremo davvero con dei titoli che molto probabilmente spareranno spareranno davvero verso l'alto che non vuol dire che non ci sarà volatilità è attenzione anzi perché tenete presente che Nvidia diciamo tutti quanti sapevano che i semiconduttori sarebbero stati importanti ha perso 66 per cento dai massimi quindi un meno 25 barra meno 30 per cento su un potenziale ritracciamento che sarà una spalla destra di un testa e spalle potrebbe arrivare senza senza assolutamente grandi problemi se ti è piaciuto questo video ti invito a partecipare ogni lunedì al webinar del lunedì delle ore 18 un appuntamento dove noi trader di investire punto biz condividiamo le nostre idee di trading e investimento è un appuntamento gratuito ti lascio il link in descrizione per iscriverti al prossimo se non puoi partecipare il lunedì alle 18 in live iscriviti lo stesso così la mattina dopo ti mandiamo la registrazione